Un terremoto. La Lega fa cappotto e ridisegna gli equilibri politici sul territorio. Nel centrodestra a livello locale il carroccio annulla Forza Italia, azzurri non pervenuti. Nel Bassanese la Lega conquista il 37% dei consensi, con Forza Italia che galleggia intorno al 10%. Se prendiamo in considerazione il solo territorio comunale di Bassano, i leghisti abbassano la percentuale di qualche punto, ma restano sopra il 30%. In città i forzisti vanno leggermente meglio, centrando il 12%. Sono stati comunque doppiati dagli alleati. Il PD è basso, bassissimo, come non lo era stato mai. Pensate che l'intera coalizione di centro-sinistra fatica a superare il 18%. Quindi, visto che nel 2019 a Bassano si vota per le comunali, possiamo concludere che Poletto deve iniziare a preoccuparsi seriamente. E la Lega, se non coglie la palla al balzo, prendendo la guida della coalizione, indicando la via e possibilmente, scegliendo per tempo un candidato forte, potrebbe perdere un'occasione storica. Intanto in queste ore, ufficializzati i promossi e i bocciati. I cattivi, i maligni, li chiamano trombati. Un bollino che spesso in politica ci si porta dietro per la vita. Molti gli esclusi eccellenti da Camera e Senato. Rosanna Filippin, del PD, non tornerà a Roma. Rossella Olivo, di Forza Italia, non ci andrà proprio. Beraldin, di liberi e uguali, resta al palo, o meglio, a Bassano. Paga le scelte fatte nella capitale da Renzi e co, Giorgio Santini, piazzato in uno dei collegi più difficili di tutti. Vanno a Roma, invece, il forzista Ghedini, con la speranza di vederlo nel Bassanese nei prossimi anni, i leghisti Germano Racchella e Silvia Covolo, la pentastellata Barbara Guidolin, rispescata al Senato con il proporzionale, e Sara Cugnial, che andrà alla Camera. Per quanto riguarda l'alta, tornano a Roma Antonio De Poli e il leghista Massimo Bitonci. Da Borgoricco arriva poi il deputato più giovane d'Italia, il 25enne del Carroccio, Alberto Stefani.